Ciao amici, scusate se non mi calcolo più di tanto ma io sono troppo presa, sono sotto, sono sotto, sono sotto, questo dramma mi piace un sacco, solo che in casa comincia a fare un attimino freddo e poi mi sono proprio completamente lasciata trasportare fatta coinvolge da questa storia. Pazzesco, è pazzesco, è pazzesco, non ce ne sono di così, secondo me, per chi piace il fantasy direi che è fantastico, veramente, è un telefilm fantastico, guardiamoci le previsioni per la prossima settimana perché qua il tempo sta cambiando e comincia a far freddo. Previsioni per la settimana prossima, al nord in Bombardia piogge sulle regioni di nord-est, nuvolosità diffusa, sull'Emilia-Romagna con piogge e temporali anche intensi, più stabili sui territori occidentali, sul resto d'Italia sereno salvo locali addensamenti sui settori interni, temperature minime massime in diminuzione. Mamma, è un sogno, è un sogno vero? Ditemi che è un sogno! Però, oddio, se fossi anche seduta qui sopra, eh, non mi dispiacerebbe per niente, l'importante è che non siano tutti morti, o quasi. Comunque, ragazzi, qui fa freddo, nemmeno tutti i fuochi del mondo potrebbero riscaldare quest'ambiente. Occhio perché l'inverno sta arrivando. Decoradevi che però su CronTV splende sempre il sole. Ciao!